C'era una volta una bambina con i capelli d'oro. Questa bambina è nata con un problema. Era condannata a essere bassa per sempre. Questo virus si chiama il coronavirus per il motivo che chiunque ce l'avesse poteva essere guarito solo da una corona. Dovresti sciogliere la corona e poi berla. La piccola amava le persone alte come i suoi genitori o i bambini senza il coronavirus, insomma i suoi compagni di classe. La bambina voleva diventare alta a tutti i costi e ogni giorno si svegliava e andava a misurarsi in caso che era cresciuta durante la notte. Ma la piccola aveva ormai dieci anni ed era quattro anni che non si è alzata neanche di un centimetro. Un giorno Emma, la bambina, si è svegliata. Come sempre, prese il suo sgabello e aprì l'armadio. Da lì prese una maglietta verde con tanti fiorellini e una gonna gialla. Con la sua mamma, che la chiamava per colazione, Emma mette i piccoli vestiti addosso e corre col suo sgabello per aprire la porta e esce dalla stanzetta. Eccomi, dice tutta contenta. La mamma di Emma era una delle persone più brave al mondo. Lei era sempre lì per Emma, nei momenti difficili, ma anche nei momenti belli. Emma, prima di fare colazione, si misurò. Niente, neanche oggi, continua delusa. Ci puoi provare domani, le dice la mamma. Triste, Emma si siede sopra i tredici cuscini sulla sua sedia per farla sembrare più alta. Dopo colazione, Emma e la mamma vanno a scuola. Emma vede i suoi due amici che la salutano. Ciao! Saluta la mamma, dandogli un bacino. Emma va a scuola. Dopo scuola, la bimba invita i suoi amici a casa sua. Così, portandoli in camera a sua, le dice Bene, devo dirvi una cosa. Inizia Emma. Intanto, i suoi amici, Marco e Sara, si siedono sul letto. Ho deciso di fare una cosa molto importante. Devo rubare una corona. I suoi amici, sorpresi, spalancano la bocca. Prima che potessero dire una cosa, Sarà difficile, ma se la facciamo tutti insieme, ce la faremo, conclude Emma. Sei pazza? E poi, perché dobbiamo rubare una corona? Anna, dice Marco. Beh, in realtà io vorrei essere alta come voi, quindi risponde intimidita. Ho un piano. E tira fuori una mappa e delle matite. Nella mappa mostrava la casa di Emma e il castello. Noi dobbiamo solo entrare nel castello e poi, beh, prendere la corona e uscire. Allora, siete con me? Chiede Emma. C'è stato un silenzio. Quando Sara dice, Ok, va bene, lo faccio. Però, se ci beccano, è colpa tua, capito? Tutti gli occhi si sono girati a Marco, che dopo poco scoppia. E va bene! Bene, ragazzi, adesso vi spiego il piano, conclude Emma. Il mattino dopo, il trio si trova a scuola, dove sarebbe iniziato tutto. Alla campanella, la prima ora era storia. La parte 1 del loro piano poteva iniziare. Emma si avvicinò al maestro e gli chiede, Mi scusi? Potrei chiedergli un paio di domande sul castello? Ma certo, risponde il maestro, che è sempre pronto per domande di storia. Ok. Allora, ci sono entrate segrete o roba simili? Beh, so che ci sono un po' di entrate segrete e sotterranei. E potrebbero essere aperte o chiuse queste entrate. In effetti, che ci penso? Sì, sono aperte. Che mi dice della corona? Per esempio, in che stanza è? Ah, la corona è nella stanza 203. Ci sono delle trappole o cose simili in quella stanza? Mi sembra che ci sono dei laser, anche se non ne sono tanto sicuro. Però, il maestro stava per dire una cosa, ma era troppo tardi, Emma stava già andando via. Dopo scuola, i tre bambini si sono visti l'ultima volta, prima del piano. Ok, sapete il piano, ci vediamo a mezzanotte. Finalmente, erano scattate le mezzanotte. Emma è uscita dal letto e piano piano è scattolaiata fuori dalla finestra. Eccovi, saluta vedendo Marco e Sara sulle loro biciclette. Come è andata? Come aveva detto il maestro, c'era un ingresso negli sotterrani. Una volta dentro dovevano trovare la stanza 203. Eccola! Sussurrò Marco. Emma aprò la porta. Era buio, a parte tante piccole luci. Erano i laser. Forza, ce la possiamo fare! Dice Emma. Sotto e sopra sono andati. Poi, finalmente sono arrivati alla corona. Marco, che era il più alto, arriverò la corona e la prese. La dia, la data Emma. Emma si è fermata un secondo e ha pensato. Ho già dieci anni, sto bene. Perché voglio diventare alta? Io sono così. Piano piano, Emma, e con un grande atto di coraggio, ha dato la corona a Marco. Che fai? Dice Sara. Non la voglio. Io sono bella così. È vero. Tu sei bella così. Tu sei Emma. Perché devi essere qualcun altro? Dice Marco. Andiamo. Sara conclude e fa la sua strada per andare. Al mattino, Emma si sveglia ed era più felice e che mai. Andando giù per colazione, non si è misurata. Non ti misuri? Chiede la mamma. No, no, no. Intanto, per io a me piace essere bassa. Grazie. Grazie. Grazie.